Questa esperienza mi ha arricchito davvero tanto perché non è tanto il dare ma si riceve perché sono molto importanti le relazioni che si instaurano con queste mamme e con i bimbi. Per quanto riguarda la mia esperienza ho accompagnato un piccolino all'asilo nido quindi mi sono divertita tantissimo e quindi faccio l'appello a tutte le famiglie di poter provare. C'è chi ha già aderito al programma Pippi e rivolge così l'appello anche alle altre famiglie. Si tratta di un progetto di vicinanza solidale con l'obiettivo di contrastare attivamente l'insorgere di situazioni che possano favorire le disuguaglianze sociali attivo a livello nazionale dal 2011 e da tempo attuato anche nelle zone di stretto dell'asilo toscana sud-est. Si propone di prevenire delle situazioni di allontanamento di minori da casa dalle famiglie che si trovano temporaneamente ad affrontare un periodo di grave difficoltà. Quindi serve ad evitare l'istituzionalizzazione ricercando quelle che erano un po' le risorse anche di un tempo cioè tipo la vicinanza solidale che con poco però consente veramente talvolta di risolvere dei problemi delle famiglie. Ci sono famiglie che non hanno una rete che sono da sole nel gestire i loro figli e quindi poter contare su qualcuno che semplicemente accompagna i bambini allo sport, li va a prendere a scuola, li segue un po' nei compiti eccetera può essere una soluzione importante. Nel Valdarno Aretino coinvolge gli otto comuni e al progetto partecipano attivamente con ruolo di sossegno e supporto coppie con o senza figli o persone singole che possono offrire un aiuto nella vita quotidiana. In questo momento come HIP stiamo lavorando con interventi di promozione sul territorio e sensibilizzazione su tutta la popolazione perché molte persone di fatto non sanno cos'è il progetto Pippi essendo presenti fondamentalmente negli eventi che propone il Valdarno. Abbiamo un parternariato molto importante con scuola famiglia e poi stiamo organizzando i gruppi genitori bambini che saranno attivi presumibilmente sulla fine di ottobre dove appunto diamo sostegno alle famiglie che appunto vivono momenti di vulnerabilità e che hanno bisogno di un supporto e un sostegno dagli specialisti ma soprattutto dalla rete.